La Fondazione San Raffaele ha ottenuto una sospensione temporanea dal Tar di Lecce contro l'asile di Brindisi che vuole subentrare nella gestione della struttura a Ceglie Messapica. I sindacati CGL e Cisle Will nelle scorse ore hanno organizzato un sit-in per sensibilizzare sulla continuità occupazionale e la qualità dell'assistenza. Sulle ultime vicende è intervenuto il consigliere regionale Fabiano Amati che ha commentato con un atto abnorme del presidente del Tar di Lecce che è stata consentita l'attività di cura a medici senza gli obbligatori titoli di specializzazione. L'atto abnorme del Tar raggiunto Amati impedisce all'asile di Brindisi di prendere possesso di una propria struttura incardinata nella rete ospedaliera e connessa all'ospedale Perino di Brindisi integrando il personale medico con professionisti dotati di titolo legale così da curare al meglio le persone che attualmente sono ricoverate presso il centro. Fabiano Amati ha spiegato, siccome la questione è di una gravità inaudita e coinvolge profili di responsabilità penale ho informato di tutto il procuratore della Repubblica di Brindisi o altresi iscritto al presidente della Repubblica per sapere se è ragionevole curare i malati gravissimi con personale medico privo di abilitazione culturale appropriata e all'ufficio di presidenza della giustizia amministrativa per sapere se rappresenta a motivo di ispezione o azione disciplinare l'adozione di un provvedimento palesemente abnorme. Nel frattempo, conclude il consigliere, ho chiesto all'avvocatura regionale all'ufficio legale dell'ASL di insorgere immediatamente contro il provvedimento monocratico del presidente del Tar Lecce. La Fondazione San Raffaele ha commentato attraverso una nota in merito a una presunta ma inesistente carenza di personale e di medici privi di titoli. Ribadiamo che, come evidenziato nei ricorsi urgenti al Tar, entrambi accolti disponiamo della completa dotazione di personale che da oltre vent'anni garantisce prestazioni di eccellenza e che i medici operanti dispongono dei titoli necessari. Grazie a tutti.